Comunque l'idea è quella di attraversare le vie di Roma, sì, di notte, per avere un effetto sorpresa, arrivare fino al Quirinale, per cui mi raccomando, voglio che queste vie siano pulite, immacolate, non voglio vedere neanche un mozzicone di sigaretta, è chiaro? C'è un problema di spazzatura. Come c'è un problema di spazzatura? Non ho capito. Ci sono i sacchetti, i sacchetti della spazzatura a Roma per le strade. Ma insomma, Roberto, ma fai qualcosa, datti da fare, sei stato l'ex ministro delle finanze italiano. Era tutto una finta. Ah, perché il bilancio lo scrivevano a Bruxelles. Ma che c'entra Bruxelles? La capitale d'Italia è Roma! E Bruxelles? Abbiamo conquistato il Belgio! Ah, non abbiamo conquistato il Belgio.